Oggi con noi Francesco Cuccini. Quello che avete sentito è un assaggio della sua nuova produzione. Dopo tre anni, al di là di tutte le logiche di mercato, di tutte le logiche che vorrebbero date precise, scadenze, logiche, commerci, fatui e meno, Francesco Cuccini esce con un nuovo disco. Si chiama Signora Bovary, uscirà a metà gennaio. Sappiamo quanto sei riluttante ad accettare interviste televisive, per cui ti ringraziamo di aver accettato questa con noi di Prisma. Francesco, tre anni di silenzio, poi un disco. Cosa è successo in questi tre anni? Più di tre anni, tutto sommato. Di particolare, da un punto di vista delle canzoni, è successo che le canzoni hanno richiesto tempo per essere maturate, per essere finite. La canzone è un'idea che nasce in un certo momento, poi si concretizza in parole e in musica. Ed è meglio pensarci, è meglio che questa idea si maturi come una mela o una pera, insomma, per essere colta al momento, speriamo giusto. In questo disco c'è una maggiore ricerca e delle basi musicali e della sonorità e del testo, della parte letteraria. Francesco Cuccini è diventato più ricercatore, si esprime in maniera più raffinata, così direi di dire. C'è una ricerca maggiore in questo? Ma dunque, da un punto di vista musicale, diciamo che naturalmente c'è stato uno sviluppo perché sono assieme ai musicisti del disco da quattro anni. E quindi direi che naturalmente c'è stata un'evoluzione all'interno del nostro gruppo. Ormai ci conosciamo, direi, in maniera naturale, in maniera spontanea. E questo si sente nella dinamica di tutte le cose, insomma. Da un punto di vista dei testi, ovviamente, anche questo, non ci si accontenta forse mai, adesso poi nel bene e nel male. Questo non so se ci si prenda o meno. Comunque, sono canzoni forse più corte, esclusa una. Canzoni più corte e i versi invece sono allungati, sono più parole, forse per compensare alla brevità della canzone stessa. Qual è il sentimento che domina questo disco? La malinconia? Il guardare con distacco le cose? No, c'è un po' di tutto, anche come atmosfera musicale. Proprio la soddisfazione di poter variare atmosfera o variare genere musicale, secondo l'argomento della canzone stessa. Quindi si passa dalla milonga, canzoni di tipo argentino, al country, allo swing, questa volta c'è addirittura un pezzo swing. Tante cose, insomma. Questo signora Bovary, tu ti riconfermi un narratore di storie, uno dei pochi ultimi forse cantastorie. Ti piace questa definizione? Beh, in un certo senso sì, è un pezzo che mi hanno dato questa definizione. Raccontatore di storie perché la canzone racconta anche delle storie. Non solo però raccontatore di storie, anche la canzone serve a cercare di fissare dei momenti per vederli, per esaminarli meglio, per cercare di capirli. Insomma, ecco, quindi forse l'atmosfera generale sta proprio in questa cosa, insomma. E la signora Bovary, del titolo e della canzone, siamo noi. Da due punti di vista, Flaubert diceva ovviamente, Madame Bovary, c'est moi, sono io. Noi siamo queste canzoni, io suono queste canzoni, però non Madame, signora, più quotidiano, più nostro. Perché siamo quotidianamente una signora Bovary che ricerca delle cose che non sono senz'altro al di fuori delle proprie possibilità, non sono sogni possibili, ma fanno parte del nostro vivere quotidiano.